Non passa giorno che da qualche rivista specializzato dall'ennesimo studio di settore non salti fuori che in Italia, dove il lavoro sembra mancare in maniera fisiologico, non sia proprio così tutto vero. O meglio, ci siano settori e luoghi dello stivale dove operai specializzati ed artigiani con le famose mani d'oro vengono ricercati inutilmente. Da tempo associazioni di categorie e sindacati ripetono come un mantra che uno strumento efficace a risolvere il problema è l'alleanza scuola-lavoro, meglio ancora l'alternanza scuola-lavoro. Un'occasione importante perché spesso e volentieri da qui nascono le sensibilità oppure un ragazzino si accorge di avere una sensibilità? Certe volte capita che, ad esempio, in un caso di alternanza scuola-lavoro, anche i ragazzi che non frequentano istituti tecnici professionali o magari fanno anche dei licei, però si accorgono di avere delle sensibilità particolari. Noi ne sentiamo di tutti i colori, nel senso che ci sono ragazzi che frequentano il liceo scientifico o il liceo classico e scoprono magari di avere una sensibilità per attività più manuali di quelle. Dopodiché ci sono le cose un po' più normali e strutturate per cui uno che fa quell'indirizzo scolastico si trova nell'azienda artigiana più a suo agio perché ovviamente sta affrontando temi che vede ogni giorno a scuola. Però l'alternanza secondo noi è utile perché c'è un primo vero confronto con il mondo del lavoro e quindi si comincia a capire di cosa stiamo parlando. Quanto vale, oltre alla formazione e all'alternanza scuola-lavoro, per i nostri ragazzi e per il futuro anche di tanti esercizi artigianali che mantengono una conoscenza, un background che rischia di andare perduto? Conta tanto perché il tentare di mantenere uniti i ragazzi da una parte con un'attività che noi cerchiamo di fare in modo che le nostre aziende artigiane accolgano con un preciso piano diciamo così almeno di riflessione sul lavoro e non vengano messi lì tanto per fare come magari può capitare in aziende più strutturate dove vengono messe a fare fotocopie e quindi se l'azienda artigiana lo accoglie sapendo cosa dovrà imparare a fare magari è un periodo utile anche per lo stesso studente che oltre ad avere un primo approccio al mondo del lavoro incomincia anche a capire di cosa c'è bisogno dentro un'azienda o dentro una bottega artigianale. Per le imprese scegliere di ospitare in azienda studenti in alternanza scuola-lavoro offrendo loro la possibilità di combinare la preparazione scolastica con l'esperienza assistita sul posto di lavoro può diventare una preziosa opportunità avendo la possibilità di testare le capacità di quelli che potrebbero diventare futuri dipendenti non appena concluso il ciclo di studi. Ma per un'azienda sono solo rogne, conviene cioè? No, per l'azienda non sono solo rogne, è vero che c'è un investimento in termini di tempo nello spiegare l'inizio almeno di un lavoro, le competenze di base, dall'altra parte più di qualche volta le aziende artigiane conoscono un ragazzo e di quel ragazzo cominciano a apprezzarne la freschezza perché molto spesso hanno delle competenze ad esempio in tema di digitalizzazione che alcune nostre aziende non hanno e quindi incominciano a fare delle riflessioni grazie a questi ragazzi che arrivano anche in alternanza.